Assolutamente sì, è a loro che dobbiamo dare le risposte e quindi questa mattina dopo una telefonata con la ditta che sta facendo i lavori mi hanno assicurato che la strada sarà aperta. Lunedì intanto stanno organizzando anche il turno di lavoro notturno per accelerare le operazioni, una volta che sarà fatto brillare un grosso masso che è caduto sulla strada ma che non si è sfrantumato e quindi ha bisogno di essere ridotto in piccole porzioni per poi essere messo a dimora. Quindi la strada sicuramente per Pasqua sarà aperta. Siamo molto soddisfatti del primo intervento ma la prova che il grande masso che è caduto sulla strada tutto per intero fa capire l'entità della frana che era il pericolo su questa strada. Tengo anche a dire che la ditta che sta facendo i lavori si sta prodigando davvero tanto insieme ai tecnici, ai geologi e tutti quanti gli addetti ai lavori. C'è un grosso lavoro di squadra, di collaborazione con gli enti sovracomunali. A tale proposito ringrazio innanzitutto Sua Eccellenza il Prefetto che da subito si è messo a disposizione, la provincia di Salerno nella figura del Presidente Franco Alfieri, il nostro Presidente De Luca, Luca Cascone delegato alla viabilità e soprattutto anche la protezione civile nella persona del Dottor Gilivi che hanno concesso le somme necessarie per eseguire questi lavori di somma urgenza. La strada è importante e noi dobbiamo dare risposte perché è di vitale importanza per la nostra comunità. Il Mingardo è la porta del Comune di Camerota. È un luogo straordinario che dà lavoro a tantissime imprese. Le imprese e soltanto coloro che lavorano con dignità, con onestà possono sapere quanto è importante quella strada. Sicuramente alcuni nullafacenti hanno fatto di tutto per ritardare le operazioni in quanto non essendo né addetti ai lavori né tantomeno persone del fare cercano di portare nella mediocrità quella che è la loro quotidianità un po' tutto il nostro sistema. Ma su questo sicuramente hanno avuto una risposta dai nostri concittadini nelle ultime elezioni e questo la dice lunga sulla loro credibilità.